Non c'è umanità senza coltivazione della terra, non c'è vita buona senza il cibo che essa produce per gli uomini e le donne di ogni continente. È la riflessione che Papa Francesco ha offerto ai rappresentanti della Col di Retti ricevuti sabato in Vaticano. Nel settantesimo di fondazione della Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti il Pontifici ha rimarcato la centralità del lavoro agricolo perché l'opera di quanti coltivano la terra si presenta come una vera e propria vocazione e merita di venire riconosciuta e adeguatamente valorizzata anche nelle concrete scelte politiche ed economiche. La solutizzazione delle regole del mercato, una cultura dello scarto e dello spreco che nel caso del cibo a proporzioni inaccettabili insieme con altri fattori determinano miseria e sofferenza per tante famiglie. Il Concilio Vaticano II ha proseguito il Pontefice e ha ricordato la destinazione universale dei beni della terra ma in realtà il sistema economico dominante esclude molti dalla loro giusta fruizione. È importante dunque eliminare quegli ostacoli che penalizzano un'attività così preziosa e che spesso la fanno apparire poco appetibile alle nuove generazioni. Nello stesso tempo occorre prestare la dovuta attenzione alla fin già troppo diffusa sottrazione di terra all'agricoltura per destinarla ad altre attività magari apparentemente più redditizie. Come ci hanno insegnato i nostri nonni, con il pane non si scherza. Ma io ricordo da bambino quando cadeva il pane ci insegnavano a prenderlo e baciarlo e riportarlo sul tavolo. Il pane partecipa in qualche modo dalla sacralità della vita umana e perciò non può essere trattato soltanto come una merce. Altro fronte di attenzione è la custodia del creato perché possa continuare ad essere come Dio la vuole, fonte di vita per l'intera famiglia umana. Invitando tutti a ritrovare l'amore per la terra come madre, Papa Bergoglio non ha mancato di ricordare gli accelerati mutamenti climatici come pure gli eventi meteorologici estremi, sempre più diffusi. Come continuare a produrre buon cibo per la vita di tutti quando la stabilità climatica è a rischio, quando l'aria, l'acqua e il suolo stesso perdono la loro purezza a causa dell'inquinamento? Davvero ci accorgiamo dell'importanza di una puntuale azione di custodia del creato. Davvero è urgente che le nazioni riescano a collaborare per questo scopo fondamentale.